Buscemi, abbiamo visto poco fa il candidato sindaco Pasqualino. Sì, credeva che l'avremmo intervistato, lo abbiamo deluso. Sono le 18.04. Ma lui ha detto che è un po' presto. E ancora è un po' presto. A Giamilano si sa tutto, dico Milano. A Roma quasi tutto. A Quasanta Force non ne parliamo, già sono tutti a casa. A Quasanta ha 50 frazioni e hanno già tutto chiuso, risolto. San Benedetto detrova... Bella domanda, è una bella domanda che noi ci poniamo. Nel frattempo sono le 18.05, non si sa nulla. Non è che c'è un problema nel voto di Giundo? I presidenti di Seggio sono tutti bravissimi, ma anche gli scrutatori temono che non sia questo il problema. Il comune 5 anni fa, ma anche prima, aveva un bellissimo tabellone. Oggi con pretesto Covid, non ci sono tabelloni. Il tabellone lo vedevano i giornalisti. Poi i giornalisti lo riprendono come d'uso. E al Ministero degli Interni non c'è il pubblico. Ci sono i giornalisti e poi tutti vedono i tabelloni del Ministero degli Interni. Ripeto, il Ministero degli Interni. Non senza offesa del comune di San Benedetto. C'è una certa differenza. Come l'hai visto? Quindi l'ho visto male. L'ho visto tranquillo, sereno. Non è un problema che io personalmente mi pongo. Lui se lo porrà. No, perché magari lui ne sa più di noi. Tu l'hai detto. Io non mi pongo il problema. Mi pongo il problema che non c'è nessun dato alle 18.06. No, ma anche un altro problema che qui né Facebook né Whatsapp prendono. Altra bella notizia. Bella nel senso di interessante. Forse perché stanno leggendo con le case. Qui è pieno di giornalisti. Ma non lo so, il serve del comune è abbastanza capiente per Bacco. È fatto bene il serve del comune. Quindi mi pare un po' strano anche questo. Vedremo. Tabelloni zero. Vedremo. Noi daremo conto appena sapremo qualcosa. Daremo conto, secondo Nazareno, l'insegnamento di Ugo Stille, direttore storico del Corriere della Sera, che diceva seguiamo i fatti. Seguiremo i fatti. Bene. Non le chiacchiamo. Grazie.